De Angelis, debutto interno, ok in questa fase a orologio, giunta la seconda giornata, un risultato di importanza fondamentale nel cammino del centro Abruzzo contro un avversario che soltanto tre settimane fa si era in posto qui al palazzetto di via 25 Aprile, il campo basket. Sì esatto, è una vittoria costruita con tanta abnegazione difensiva perché questa è la prima partita che stiamo giocando senza il nostro top player Alessandro Marzoli quindi ci sono dei meccanismi che devono essere un po' rivisti, bisogna lavorarci durante la settimana. Abbiamo fatto questo ulteriore inserimento di Alberto Ambrosini che oggi si è potuto vedere in partita, ci ha dato veramente tanto e niente, speriamo che questo è l'inizio di una nuova avventura perché Marzoli purtroppo per un po' di tempo non ci potrà dare una mano. Infortunio? Sì è un infortunio casuale diciamo così avvenuto in partita durante una partita un po' maschia a Termoli la settimana scorsa, pensavamo che fosse un po' più lieve invece alla fine si è arrivato più grave di quanto previsto e quindi niente questo è anche il bello dello sport, dobbiamo trovare altre dinamiche, altri meccanismi e ci lavoreremo. I punti della fase a orologio si sommeranno a quelli conquistati nella fase regolare quindi questa è una fase che costruirà la griglia playoff, una griglia nella quale voi volete posizionarvi nel migliore dei modi. Sì sì è fondamentale in questa fase a orologio portare a casa i punti interni, nelle partite interne dobbiamo vincere, ne abbiamo tre e dobbiamo fare sei punti, due li abbiamo fatti e ne mancano altri quattro sostanzialmente. Dopo se ci scappasse qualche colpo fuori casa anche se la vedo dura ma confermare già i sei punti delle partite interne ci garantirebbero comunque una buona posizione in vista dei playoff. Stabolo prossimo nuovo impegno casalingo, importante non fallire il nuovo appuntamento con i due punti. E questa è una fortuna del calendario che ci ha regalato perché avere due partite interne consecutive soprattutto con la fiducia che abbiamo preso oggi con questa nuova dimensione, questa nuova identità della squadra non ci può che far bene. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo tenere la concentrazione alta tutta la settimana perché comunque viene Penta Teramo che è una squadra veramente quotata. Che avversario si aspetta, anzi sabato? Ripeto, è una squadra quotata, è a pari punti in classifica con noi, noi abbiamo conservato a difenza il punteggio nei canestri tra la vittoria in casa qui all'andata e la sconfitta al ritorno. Però devo dire che una squadra che se l'avessi incontrata magari con l'identità della mia squadra dall'inizio dell'anno sarei stato più fiducioso. Adesso ecco, dobbiamo lavorare, devo lavorare e dobbiamo avere tanta tanta pazienza. Non va a parlare dei singoli, ma è un giudizio, vogliamo chiederlo ugualmente riguardo ai due nuovi innesti, Volpe e Ambrosini. Sì, diciamo che Ambrosini e Alberto già avevano delle esperienze di categoria, quindi si è visto che in campo sa muoversi abbastanza bene. L'altro è un ragazzo un po' più giovane, che ha delle qualità, credetemi, veramente elevate. Deve soltanto rientrare nei nostri meccanismi, quella è un po' la parte più difficile. Però credo che con il tempo, con la fiducia che mano a mano acquisirà, secondo me, ne vedremo delle belle sotto questo profilo.